Stavo facendo delle riflessioni, ma come si fa a fare del male a delle creature così stupende e belle che la vita ci ha donato e tutti i giorni ci dona, con il loro amore che ci danno ogni giorno, puro, sincero e vero soprattutto. Vi chiedo veramente, quelle persone che hanno il coraggio di fare del male a questi esseri viventi, sono anime, anime con la coda, ogni giorno mi rendo conto di quanto il suo amore sia fondamentale per me e per tantissime altre persone, a loro manca solo la parola, questa è la verità. Mi rendo conto che nei miei periodi bui c'è sempre stata lei in ogni momento, sia bello che brutto, non hanno nessuna pretesa, non vogliono cose materiali, vogliono solo un amore, l'amore del proprio padrone. E a volte quando vedo quelle persone che abbandonano, uccidono, maltrattano, mi arrabbio, mi arrabbio perché non riesco a comprendere questa cattiveria nei confronti di queste creature meravigliose, veramente, che meriterebbero molti più anni di vita rispetto ad altre, brutto da dire ma è così, ad altre persone. Le manca la parola, cioè lei sa che sto parlando di lei, di loro e si comporta in questa maniera. Quando stavo male avevo una forte repressione, lei capiva veramente tutto, ecco guardate adesso come fa proprio perché sa di cosa sto parlando. Tante persone dicono ma non capiscono nulla, invece vi posso assicurare che loro capiscono qualsiasi cosa. L'unica cosa che a loro manca è la parola, ma poi si fanno capire in ogni modo. E quindi volevo fare questo video, veramente perché sono felice di aver trovato un'amica, se così possiamo dire, una figlia per me, che mi dà veramente un amore incontribile, veramente, che non è paragonabile a nessun altro amore. E vi auguro a tutti di trovare, di provare questo rapporto, questo amore che io provo per il mio cane e che lei provo per me, veramente. Abbracciami, dai. Abbracciami, basta. Ovi abbracci e non ti cada soppi. Basta. Abbracciami, fai vedere come abbracci, dai. Fa vedere come abbracci, vieni. Fa vedere come abbracci, dai. Oh, ma lo bro, ma bro, ma mio bambino. L'abbraccio, l'abbraccio. Dai, mettiti giù come abbracci, dai. Mettiti giù, dai. Dai, venne l'abbraccio. Fai un bacio. C'è tanto. Fai un bacio. Fai un bacio. Grazie.